quello che sto usando adesso sono le kettlebell ovvero queste campane con un peso specifico sono fondamentalmente dei sovraccarichi hanno questa impugnatura a forma di maniglia e quindi questo le rende molto versatili posso utilizzarli come sovraccarico posso usarli come manubrio posso usarli come destabilizzatori posso usarli anche come appoggi ci servono per tantissimi esercizi a livello funzionale vi aspetto per provarle Atenasai ciao